Buongiorno a tutti, giovedì 1 febbraio 7.07 qui su Crystal Radio, Good Morning Milano come sempre la mattina dei milanesi, il morning show dei milanesi e quest'oggi abbiamo un ospite che è venuto qui a fare con noi il Good Morning con te, quest'oggi è Good Morning con Andrea Kerchi. Grazie, Good Morning a te, siamo in diretta una levataccia incredibile però ce l'abbiamo fatta, tu sei vestito da casa, io però mi sono dovuto vestire mi sono dovuto mettere tutto quanto, uscire di casa, prendere il freddo per stare qua con te perché te veri ben ed è sempre così, tu invece hai fatto due passi, sei ancora in pigiama, in realtà è un golfino, vi hai i pantaloni Sotto il tavolo sì, non sono come la pardo che faceva i collegamenti dal mondiale con le canzoni Io non guardo, io ti ho già trovato seduto 33178-53555 è il nostro numero di whatsapp, potete portarci i saluti per Andrea ad esempio dare il buongiorno a lui, ma noi diamo il buongiorno a voi e potete raccontarci tutto quello che farete oggi in giornata Tu mi vuoi tanto bene sì, ma vuoi tanto bene a Milano e quindi è per questo che questa mattina sei qua con noi Assolutamente sì, perché guarda questa cosa, questo tuo format Good Morning in Milano io lo sposo veramente Sai che è stato decretato il miglior morning show del mondo Ben ha ragione, tutti lo dicono, io ho letto migliaia di commenti, ho smesso di leggere i commenti perché non riuscivo più ad andare avanti C'erano un paio di giornali thailandesi che questa mattina primano così in prima pagina Iniziamo con la musica, Adriano Celentano, Azzurro, buongiorno a tutti, questa si spacca Cantate a squarciagola tutti insieme Anche noi, ve la copriamo E sulle note di Azzurro di Adriano Celentano iniziamo la puntata di oggi giovedì 1 febbraio 7 e 13 minuti con appunto Andrea Kerchi che, ti dico anche questo Andrea, al 3317853555 arrivano già i primi saluti per te Perché ci scrive Alberto, buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio e buongiorno al grande Andrea Kerchi Grazie Alberto Che ci racconta Milano con i suoi splendidi scatti Grazie Questa mattina felice nonostante il mal di schiena Perché poi abbiamo anche le cartelle cliniche di chi ci ascolta e ci mandano tutti i cosi Alberto, sono riduce da un colpo della strega della settimana scorsa Andavo, stavo buttando la patumiera perché anche Andrea Kerchi viene chiamato a questi compiti Stavo buttando la patumiera, mi sono piegato Dico Andrea ma tu sei ginnico Mi hai preso un colpo della strega Ho dovuto interrompere per metà giornata tutte le mie attività perché sono rimasto curvo E' arrivata quella buona donna di Santa, donna di mia moglie E mi ha riportato su a casa E alla fine sono rimasto per una settimana con questo colpo della strega Quindi Alberto, io sono solidale con te Il mal di schiena è una cosa davvero brutta Alberto, grazie veramente per questo bel messaggio Possiamo dare anche un retroscena, un backstage Che abbiamo la stessa moglie Certo, si chiamano, allora Erika la tua con la K, la mia con la C Però ci hanno messi in riga Sono riusciti in un'impresa memorabile Questa azione di moglie barra badante Che a volte barra maestra Quindi salutiamo le nostre sante moglie Salutiamo le nostre sante moglie che a quest'ora dormono ancora Si stanno preparando, però la sveglia deve ancora suonare Ah venga, non si chiama mia, non si è già sveglia Erika oggi inizia a insegnare alle nove Quindi la sveglia suona alle otto Ah beh dai buono Cosa insegna di bello? Insegna matematica e fisica Ah non saremmo andati d'accordo? No, a casa nostra non scappa nulla Povera Vittoria Povera Vittoria No beh Vittoria ne ha beneficiato Perché comunque è sempre andata bene in matematica Perché se chiedeva a me di matematica ragazzi Invece di matematica Un minimo devi saperne perché di guardare i grafici Stavo guardando i grafici di Amat L'agenzia mobilità e tutto quello da Bali Perché oggi, nono giorno consecutivo Con il PM10 sopra i limiti Eh sì, effettivamente allora Io te ne parlo a livello anche fotografico A volte quello che tutti dicono Non so, la scighiera La scighiera romantica La scighiera bellissima Mi capita di fotografarla spesso A volte è proprio l'aria inquinata di Milano Che però non è una critica Non voglio essere critico su questo Perché comunque Milano è una città in movimento Un milione e quattrocentomila abitanti Solo la città di Milano Tutti si muovono in macchina Tutti comunque producono un consumo Tutti producono anche un'aria Che è meno pulita del solito È un dato che va e viene È un dato molto particolare Molto strano Però a volte al mattino Quando guardi il cielo Dici no, questa non è scighiera Questa non è nebbiolina E allora che cos'è? È questo È quella roba lì Interessante soprattutto Che sono entrate in vigore le normative Per non far viaggiare Non far circolare i veicoli più inquinanti Questa cosa non ha sortito nessun risultato Nella città di Milano Invece sì nella città metropolitana Perché nella città metropolitana Il 28 è stato l'ultimo giorno di superamento dei limiti Quindi 29 e 30 e 31 invece sono rimasti sotto i limiti C'è da dire che l'attuale amministrazione Ma non solo l'attuale amministrazione Ma anche quelli che hanno preceduto Beppe Sala Stanno lavorando molto per creare anche una consapevolezza Nei cittadini di muoversi in bicicletta con i mezzi Digliela Monguzzi o Agorini Secondo loro non tanto Passamelo, lo chiamiamo in diretta Lo svegliamo No vabbè Però comunque stanno cercando di fare qualcosa Non è facile Sai perché? Perché comunque Bisognerebbe ricostruire da zero Milano Pensarla con le ciclabili Pensarla Con i navigli Ripensano Ripensano che i navigli aperti Sai se agli inizi quando dicevo Il mio lato romantico emergeva Dicevo Bisogna riaprire i navigli Ma sai gli insulti che sono arrivati sui social Ma Andrea cosa dici? Non ti seguo più Bisogna fare una carriera su questa cosa E anzi io lo sposo completamente Sai che cosa? Mi immagino Sull'inquinamento Andrea Sai cosa che mi sconvolge sempre di più? Che ho davanti il grafico delle colonnine Dell'ARPA di Milano Quella con il PM10 più alto E quella di via Senato Cioè nel centro In pieno centro Via Senato che Via Senato che non è una via particolarmente lunga Ma che tu nelle ore di punta Fai in mezz'ora Quelli che non sono di Milano Dicono Andrea ma come si fa a fare via Senato In mezz'ora che è lunga A piedi A piedi Fate prima A piedi in bicicletta Fate molto molto prima A piedi in bicicletta Se siete in giro invece in macchina E avete paura Di rimanere imbottigliati Beh noi qualche consiglio ve lo diamo O meglio Ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde Per darvi tutte le ultime notizie Sul traffico In temporale In questo momento Sulla nostra città Luce Verde Irama la ragazza con il cuore di latta Irama partecipa a Sanremo Irama lo troveremo sicuramente lì Sanremo è una persona anche molto umile Molto simpatica Io quando ho fatto dei lavori per Radio Italia Al concerto di Milano È una persona veramente molto disponibile Quindi gli faccio un in bocca al lupo Per Sanremo Per la sua partecipazione Ma lui è bravissimo Quindi sicuramente Andrà bene E la settimana prossima inizia Sanremo E quindi inizia anche la tua bella avventura Eh sì Ho spoilerato tutto No 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 Stiamo già ieri Ho detto che qualcosa succederà Adesso stiamo Intro venerdì Allora a me non interessa Della musica No io No i fiori no Mi porti a casa del pesto Qualcosa da mangiare Una focaccia Focaccia No la focaccia Se la prendi martedì Me la porti la settimana dopo No Ma secondo te Se compra una focaccia martedì Arriva martedì sera No non arriva assolutamente Però mi mandi una foto E come se Tu mi porti il pesto Mi porti Una cena a casa Ah va bene Facciamo così va bene Pesto Pesto Pasta Allora devi fare il primo Secondo il dolce Che dolce c'è in Liguria Tipico Non so C'è un dolce di Liguria Tipico Tu entri in una focacceria Allora hanno anche i dolci Focaccia con su Nutella Dolce al pesto Dolce al pesto Comunque Allora Torniamo invece su Milano Perché Notizia di ieri Nel senso che è stato presentato Il progetto per San Siro Quattro anelli Ma lo fanno basso In realtà Quattro anelli Allora Intanto Qui fanno come con le metropolitane Sai che noi abbiamo avuto L'M5 L'M4 E qui ci sarà Primo anello Quarto anello Secondo anello Così Fanno Allora Intanto è un progetto Un render Quello che si vede Unesimo render Unesimo render Se ci pensiamo Comunque sarà già Il decimo render Che riceviamo È una questione Una matassa Veramente Intricata È una vicenda Davvero complicata Che comunque Tiene anche presente Delle opinioni Dei cittadini Quindi i cittadini Questa volta sì Finalmente Finalmente Li hanno coinvolti Hanno visto queste Queste foto E si sono divise Come al solito In Social haters Che hanno scritto Di tutto Di più Peste e corna Invece quelli che sono Un po' più obiettivi Effettivamente È un problema È un problema Che ha dato Tanti pensieri Tanti grattacapi Alle squadre A Beppe Sala Però secondo me Non è ancora La soluzione finale Questa ne vedremo Ancora delle belle Sì Io ho fatto un pronostico Un pronostico Nel senso che Secondo me Succederà questo Il Milan Andrà a San Donato A farsi lo stadio E il Milan Si riprenderà a San Siro L'Inter Si riprenderà a San Siro Però non lo Vorrà riprendere Così come è Mettendolo a posto Insomma questo progetto qui Sarà molto vicino Alla soluzione finale E i concerti Continuano a fare San Siro E secondo me Riusciranno finalmente A fare il tetto Retrattile Che si chiuderà Perché è quello Il concetto è quello Il concetto è quello Cioè che quando ci sono i concerti Se tu lo chiudi Diventa un'arena Che allora a quel punto Ce la invidiano nel mondo E quindi poi magari Invece di andare a fare Il concerto in Svizzera Le star internazionali Vengono a Milano A farle Quindi l'attrattività Che tanto Beppe Sala Sbandiera In questo caso Potrebbe essere ancora più attrattiva Abbastanza già Abbastanza attrattiva Taylor Swift Sta parlando di questo concerto A Milano Da un bel po' di tempo E ne parla In toni entusiastici E tu parli In toni entusiastici Di Taylor Swift Di Taylor Swift No perché io non sapevo Neanche chi fosse Poi è arrivata mia figlia Mi ha detto Ma tu conosci Taylor Swift Mia figlia mi considera Tranquillamente un boomer E lo sa Lo sa perfettamente Che lo sono E non lo sapevo L'ho scoperta Mi piacciono alcune Alcune canzoni Però io sono più Da Ether Parisi Rettore Loredana Bertè Questa musica pop Raffa Quando andavo al liceo Io mi ricordo Che alcuni miei compagni C'era C'era Quartetto Cetra Esatto Doveva ancora nascere Sanremo C'erano i miei Compagni di classe Che avevano Gli zaini Con sopra scritto Pink Floyd E io ascoltavo La Rettore E la nominata Nostra Andrea Kerchi Ed eccola qui Donatella Rettore Con Cobra Io ascoltavo La Rettore Bertè Poi gli altri Ascolti ancora Ascolto E i miei compagni Che ascoltavano In segreto Anche loro Donatella Rettore Loredana Bertè Dicevano Tu ascolti Quelle schifezze lì Noi ascoltiamo I Pink Floyd Io guarda Sì 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 Esatto Sotto sotto Invece alla fine Poi dopo tanti anni Scusami mi dici Una delle canzoni Dei Pink Floyd Another Breaking Un'altra No vabbè adesso Mi hai preso Alla sprofista Quella lì che fa No Invece mi sono divertito Tanto negli anni 80 Con la pop music Con Con tutte queste bellezze Sappi che questa È una delle canzoni Preferite anche Della nostra producer Viola Ciao Viola Classe 2003 Classe 2003 Chi gliel'ha fatta scoprire Questa canzone Non lo so Qualcuno l'avrà introdotta Donatella Rettore Che tra l'altro Tu che vai a Sanremo Partecipa La domenica italiana La domenica italiana La serata Di discoteca Una serata Dei locali Giusto Il venerdì Fa un duetto Con i nostri milanesi La SAD E fanno la mette Invece Noi abbiamo messo copra Poi fanno la mette Quindi adesso Mi metti la mette No Regola radiofonica Mi hanno detto Numero uno E non mai mettere Due volte Lo stesso artista L'ho fatto Ma poi l'ho fatto Perché a gennaio Il giorno che è nato Giorgio Gabber Ho messo tre canzoni di Gabber Ma lì è giustificato Da Repubblica Milano Invece Andiamo a leggere i giornali Così poi mi dici anche tu Cosa ne pensi Emergenza Casa a Milano Nasce un fondo Tra Comune e InVimit Per aumentare L'offerta di alloggi popolari E a prezzi calmerati Il Repubblica Milano dice Sarà la strumento Al quale affidare Le case popolari Da proporre Come reddito Ad altri fondi Per moltiplicare Le offerte A prezzi Accessibili a tutti Io non ho capito niente Allora Oltre a non aver capito niente L'emergenza è adesso E questi sono tutti progetti Lungimiranti Molto interessanti Che però Troveranno un'attuazione Fra 4-5 anni Quando il mercato immobiliare Sarà ancora ulteriormente Cambiato Se non peggiorato E quindi Questa è una buona azione È una buona cosa È una nota di stampa Che giustamente i giornali riprendono Però Non hai attuazione immediata E quindi L'emergenza c'è adesso Ma l'emergenza è veramente notevole A parte Quello che Per il quale Universalmente Siamo conosciuti I prezzi Delle case milanesi Tutto questo Addirittura C'erano persone Che dormivano in tenda Di fronte al Politecnico Ma al di là di questo È proprio L'emergenza a casa È legata proprio Anche ai milanesi Alle persone che fanno fatica A pagare Quando leggo queste notizie Io penso Sì Però non hanno attuazione immediata E quindi Anche perché il tema a casa Appunto Il tema a casa è diventato Costa troppo Vivere Milano Guarda ad esempio L'ex casa Ferragni Di Fedez A 38 mila euro al mese Ma non è quella L'emergenza a casa Quello è un mercato È populismo Di gente Che si sveglia al mattino E vuole parlare male A tutti i costi di Milano Mannaggia loro E dice Ah Milano è invivibile Milano io non ci vivo più Poi ad un certo punto Quando scoppiano queste cose Arrivano fuori tutti I personaggi famosi Decaduti Che Ah io a Milano Non vivrei più Milano mi ha dato tanto Finalmente scoppi Un Andrea Kerchi Un po' cattivello No non cattivello Però mi dispiace Quando parlano male di Milano E lo fanno Perché ci sono delle persone Che hanno parlato male di Milano Che ci hanno vissuto Che hanno avuto tanto Dalla città di Milano E per me la riconoscenza È una cosa importantissima E parlano di emergenza a casa Parlano poi magari scopri Che hanno affittato una casa Per due mesi Non hanno mai abitato a Milano Non sanno nulla di Milano E un po' mi dispiace Perché comunque Se parli male di una cosa Devi conoscere bene le cose Quindi Quando tu dici È impossibile vivere a Milano Città Milano è una città invivibile Tu dici Perché E loro ti rispondono È perché sì Quando ti rispondono perché sì Dici Qui preparazione zero L'emergenza della casa Non è sicuramente la casa Di Ferragni e Fedez Non è quello il filone Da seguire Guarda Mi fa interessante La scelta della foto Che ha voluto mettere Repubblica nell'articolo Perché è Via Sì Non è una foto tua Mi spiace Questo adesso poi chiameremo Relazione politica Ma come avete Però la cosa interessante È che via Albertinelli Che secondo me È un'immagine simbolo Della Milano Con l'emergenza casa E tutto Perché è proprio una via Che è divisa a metà dal tram Hai da una parte L'edilizia popolare Aler Ridotta come ridotta E dall'altra parte Le case dei signorotti Comunque c'è gente Che insomma Se la cava bene Di vario c'è lì È diviso da un tram Dal 16 È molto È molto marcato Però Questa immagine serve Per raccontare questa notizia Che però È una notizia che Lascia un po' il tempo che trova Diciamo No ma non perché L'hanno scritta loro o meno Non è che lascia il tempo che trova No c'è anche su Corriere Quindi c'è su tutti No 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 Non è che lascia il tempo che trova È purtroppo una notizia Che non riguarda l'immediato Siccome L'unica frase Che io posso accettare Da tutti È che il mercato immobiliare Cambia Dall'oggi al domani Questo è vero E quindi Questa notizia Che troverà attuazione Chissà quando Verrà riscritta Mille volte Verrà modificata Mille volte Sai che cosa che non c'è Anche nel giornalismo E tu lo sai Perché lo sei Non c'è l'abitudine Di andare a riprendere Tutto quello che è stato scritto Nel corso degli anni E confrontarlo Perché non si fa Di solito Però quello che un po' Un po' dispiace È proprio Fate un esperimento Scrivete Emergenza Casa Milano Su Google E guardate Negli ultimi 18 anni Quante notizie Il vero problema Che le persone che leggono Che non sono di Milano Sono i detrattori di Milano Che leggono questa notizia No guarda Milano io non ci vado E concludono Chiosano così E un po' Quello mi dispiace Andiamo avanti con la musica Invece Quella di Alfa Con bellissimissima 7,38 minuti Crystal Radio Sempre qua Con Good Morning Milano Insieme ad Andrea Kerchi Insieme a Fabio Ranfi Io non so invece Cosa ci lega A te Andrea Kerchi Amicizia Naturalmente Amicizia L'amore per Milano Ecco prima quello E poi è nata un'amicizia Però L'amore per Milano Ci ha fatto nascere un'amicizia Ma sai che cosa Le cose che funzionano Anche questa trasmissione La sinergia che c'è Le cose che funzionano Nascono sempre dall'amicizia Io sono sempre stato Molto riconoscente Verso le persone Che mi sono state amiche Diciamo che è nata L'amicizia e l'amore per Milano È nato tutto insieme Quando ci siamo conosciuti E è stato bello Ed è bello Le canzoni nascono dal cuore E poi vengono fuori Non farmi dire cose romantiche Perché Alcuni miei follower Mi accusano Mi dicono Andrea Però smetti Perché per me è tutto bellissimo Meraviglioso Guardate Non ha un fallore Ma ha detto Guarda lo faccio simpaticamente In privato Andrea In questo filmato Tu hai detto 18 volte meraviglioso Fai il filmato Durava meno di un minuto Però sai Chi altro Ha questo vizio Ed è un grande Quindi ti auguro Una lunga Che è come lui Vincenzo Mollica Vabbè ma C'è Allora Io sono una persona Estremamente positiva Lui è una persona Estremamente positiva Trovo veramente Sempre il bello Nelle cose Ma lo faccio proprio Anche sempre Nelle quotidianità Della vita E il fatto di dire Meraviglioso 18 volte Per me era troppo poco Anzi Riguardando il video Avrei detto Andrea Io avrei detto Almeno due o tre Devi fare come Alfa L'Alfa ha fatto Bellissimissima Meravigliosissimissimo E me l'ha fatto notare In privato Altri lo hanno fatto Pubblicamente Pubblicamente Basta tutto questo miele Così ti ho detto No Mi dicono sempre Andrea parla anche Delle cose meno belle Per aiutare Milano Io non ci credo Però una volta Io sono riuscito Una volta A scrivere un articolo Su cosa Non ti piace La situazione Non è cambiata No Via Mercanti Piazza Mercanti Via Mercanti Allora Via Mercanti Per me è sempre stato Un grande dramma Perché quella È una via storica Lì c'è il pozzo Che prima era La pietra degli umiliati Adesso è migliorato Con il restauro Del palazzo Giù ai consulti Adesso Però è sempre Comunque Una zona di bivacoli Sotto Una zona importantissima Quella del palazzo Della ragione Il porticato Perché È dedicato Alla memoria Delle persone Dei caduti Delle persone Che hanno lottato Per affermare Il diritto Della libertà E tutto quanto È vedere persone Che mangiano Che si prendono Non so Il mangiare Da McDonald's Lì vicino Che non ne ha colpa Perché McDonald's Ha i cestini Loro arrivano lì Con la loro bella bibitina Il loro hamburger Sono felici Contenti Si siedono Su delle cose Che non sono Non sono delle panchine Sono dei monumenti Si siedono lì Mangiano E poi lasciano tutto lì Perché diranno Vabbè tanto passa AMSA Non è così Che O arriva Simone Lunghi Con gli angeli del bello A pulire Ecco La coscienza Di tutti È dire Questo porticato Non è Una zona di bivacco Ti puoi al massimo Riparare Se piove O vai lì A leggere i nomi Delle persone Che Grazie a loro Grazie a queste persone Tu sei libero Tu sei una persona Che sta bene Questa domanda Te l'ho fatta Praticamente ogni volta Che ci vediamo E ogni volta Ti ho risposto In maniera diversa In maniera diversa Che vuol dire Infatti Che Milano Ti stupisce sempre più Quindi ti chiedo Qual è il tuo luogo Del cuore di Milano Attualmente In questo momento Allora sempre cascina all'interno Per via dell'amicizia Con Gianni Bianchi Angelo Bianchi Enrica Bianchi Ma Anche proprio perché In quel posto lì C'è tanto cuore C'è tanta ruralità Nella città di Milano Quindi Sei in campagna Ma in realtà Quando esci da lì Se guardi da fuori Vedi i grattacieli spuntare Mi piace tantissimo Poi Baggio Per me È uno dei quartieri preferiti Ne parlo talmente tanto Che tutti mi dicono Andrea Ne parlo talmente tanto Che tutti dicono Andrea Ma tu abiti a Baggio No Però mi sono innamorato Di quel quartiere Perché è un quartiere bellissimo Nel centro storico di Baggio Ti do una notizia Baggio è un quartiere Dove costano meno le case Quindi se vuoi trasferirti a Baggio Non è così È che magari cambia domani Il mercato immobiliare Adesso sai perché Perché sanno Che Andrea Chi vuole andare a vivere Allora no Scappano tutti E si libera No è vero Arrivo io con Meraviglioso Bellissimo Ah fantastico Vorrei venirti a dirlo In via Quartia Da quelle parti lì Riuscirei Un saluto Quindi sa tutto Della città di Milano Conosce bene il piano regolatore Conosce bene Tutti i problemi Che affliggono la città di Milano Per i quali succedono Queste cose Allora Se sei preparatissimo Puoi fare questo lavoro Ma se lo fai soltanto Per il gusto Di avere 100 like A un post Per me è molto triste Pubblicare una fotografia Di un bidone rovesciato A terra Per avere 100 post Per aumentare l'algoritmo Le mie pagine hanno successo Ma non hanno quel successo Che hanno le pagine Che parlano male di Milano Ma io non lo farei mai E non facciamo nomi e cognomi Andiamo avanti con la musica Takashi Ketra Shiva Anna Jolie Se voli potete andare anche tu A cantare Sta canzone Comunque Ma la cantiamo insieme Adesso Infatti Tutti i giorni Siamo qui su Crystal Radio E quindi Every day 7.47 minuti Crystal Radio Good morning Milano Every day Tutti i giorni Tutti i giorni Qui su Crystal Radio Dalle 7 alle 9 C'è Good morning Milano Non tutti i giorni Ma quando può Passati qua E siamo ben contenti di questo Andrea Kerchi Passavo qua per caso Ho suonato Ho detto Ah ma guarda Ho visto la luce accesa Ho visto la luce accesa Ho suonato Ti ho svegliato Ti ho tirato giù dal letto E sono venuto qua No è bello anche per me Essere qui E condividere con te Non solo l'amore per Milano Ma anche tutte le notizie Questa trasmissione Sei veramente in gamba Lo sai che lo penso E lo ridico E lo ridico Sempre e spesso E ti auguro veramente In questa settimana di Sanremo Di divertirti tantissimo Usa la parola meraviglioso Per una ventina di volte Quando parli Chiederò a tutti i cantatini Mi fa un messaggio meraviglioso Per Andrea Kerchi E almeno ti scrivo No? Nel bene o nel male Farò così Farò così Abbiamo parlato prima Di tua moglie Che fa l'insegnante Giusto? Ecco Notizia di questi giorni È che l'istituto Severi Correnti È occupato a Milano C'è un'occupazione Occupazione però A febbraio strane Sono fatte prima Le sono le occupazioni A febbraio Ma cosa hanno fatto? I professori hanno fatto La controoccupazione Fanno lezione Fuori dalla scuola Per garantire il diritto Allo studio Ormai siamo arrivati anche a questo Allora io penso a una cosa Posso dare un consiglio Quello che do anche ai miei figli Un consiglio Alle persone Alle persone giovani Non sottovalutate lo studio Perché lo studio Vi porterà veramente lontano Tanto lontano Occupare È un diritto Comunque manifestare Il proprio disagio Però Io Sono sempre stato convinto Che rispondere alle brutture Di una situazione O alle cose che non vanno Era quello di studiare Di impegnarsi sempre di più A imparare nuove cose Per riuscire comunque Ad essere Ad avere un'opinione Ancora più ponderata Da un'intelligenza Da una preparazione Per me Le ore di studio Che togliete Per non studiare O per fare altro Vi state togliendo Una risorsa importante E non ve ne rendete conto Perché magari Quando siete lì Non vi rendete conto Però Un insegnamento Anche solo Avere perso Un'ora di storia Un'ora di geografia Un'ora di italiano Vi accorgerete Che poi alla fine È un limite È vero È vero Ve lo dice uno Che ad esempio Se ne ha accorto Giovedì Prima febbraio 2024 Parlando con Andrea Kerch Esatto No 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 Nel senso che Io sono uno di quelli lì Quando ho fatto il liceo Quando ho fatto il liceo Io Ovviamente No Quando ho fatto il liceo Io ovviamente Eravamo molto contenti Quando non so C'erano gli show Ai miei tempi Non so Si svegliavano al mattino C'era uno show Però si andava tutti Tutti in piazza Però quelle ore perse Il vedere gli insegnanti Molto costernati Perché comunque Loro arrivavano lì Io ho avuto la fortuna Di avere degli insegnanti Che erano veramente Appassionati Del loro lavoro Vederci Con gli occhi Bassi Tristi Senza poter dire niente Il loro sguardo Io me lo ricordo sempre Perché loro pensavano Esattamente Quello che sto dicendo io adesso State perdendo Una possibilità Di avere un'ora in più Di cultura Un'ora in più Di sapienza Un'ora in più Di confronto E rinunciate A una cosa Una cosa importante E rinunciate A qualcosa Che magari Non tornerà più Nella vostra Nella vostra vita Gli anni del liceo Invece Speriamo che torni Andrea Kerch Qui A Certo Ma se volete Si trova un po' In giro del resto So che è anche Un'avventura televisiva Stai facendo Bellissimo Allora Su Milanau Gruppo di Tele Lombardia Canale 191 Ogni mercoledì Con Sara Polgati Tradizioni Lombarde Quindi parliamo di Lombardia E poi ogni tanto Ospitate con la Giorgia Ma la Giorgia È un mito A parla come mangi Lei inizia tutte le mattine Alle 8 del mattino Giorgia Potresti venire qui Un'ora prima da noi A fare Giorgia Ti aspettiamo Giorgia Colombo Cosa stai facendo Giorgia Colombo Inizia alle 8 Lei è perfetta Io arrivo lì alle 8 Ho un qualcosa Allora Do un retroscena Vai Io Giorgia la conosco da anni Abbiamo Io già lavoravo Quando lei ha iniziato Era una giovanissima Giorgia Colombo Si può dire che L'hai creata tu No 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 Si è creata la sola Perché davvero Era già brava all'epoca Era già brava Era già brava Il primo giorno che è arrivata Era già brava Ma soprattutto È sempre perfetta Sì Sì Allora Di un'umiltà pazzesca Di una simpatia pazzesca Ed è sempre perfetta Quando entra in onda Tu dici Ma come fa Perché poi Vedo lei in onda Vedo me E dico Guarda lì Capisci Andrea Perché io ho scelto la radio Hai fatto bene Hai fatto bene E quindi ricordiamo Allora Milanao Quando? Il mercoledì Ogni mercoledì Dalle 16 alle 17 Con Sara Polgatti Tradizioni Lombarde Parliamo di Milano Della Lombardia E poi ogni tanto Su Parla Come Mangi Ok In Casakerchi So che c'è un Un giradischi Allora Io non ho Non ho Il CD Non l'ho mai posseduto Il CD perché Ho sempre posseduto Acquistato Mi regalano I vinili I vinili Io ho un giradischi Io ho un giradischi Secondo me Il boss Ogni tanto parte Bruce Springsteen Vabbè io ho i vinili Di Bruce Springsteen Born in the USA Parte Lo facciamo partire E allora Per salutarti E ringraziarti Della tua presenza Qui oggi Grazie Fabio A Good Morning Milano Ascoltiamo Bruce Springsteen Scusate Con Dancing in the Dark Oh wow Ti piace questa E allora Grazie ancora Andrea Kerch Andrea ci sentiamo Nei prossimi giovedì Giovedì prossimo No che sono Sanremo Ma quello dopo Giovedì dopo Quello dopo sicuramente Grazie a tutti Grazie per essere stati con noi E adesso il boss Dancing in the Dark Dire Straits Sultans of Wing 8-13 minuti Inizia la seconda ora Di trasmissione Qui su Cristal Radio Con Good Morning Milano Buongiorno ancora a tutti 331-78-53-555 Grazie per i whatsapp Che sono arrivati Anche in pausa Grazie Marco Grazie Luisa Per il buongiorno Che entrambi ci date Grazie anche a voi Buona giornata E buon inizio di giornata Allora andiamo avanti Con invece Un ospite nuovo Che ci ha raggiunto Qui in studio Parlo di Andrea Foschi Buongiorno Andrea Buongiorno Buongiorno a tutti Allora abbiamo tante cose Da parlare con te Andrea Perché Tu fai parte Di questa cooperativa Giusto Che si chiama L'impronta Che però È un'impronta Bella grossa Perché lasciate L'impronta In tante situazioni Che andate a toccare Nella zona sud Di Milano Diciamo più o meno L'ultima Che cosa troviamo Che cosa troviamo all'interno All'interno di questa realtà Nel quartiere del vigentino Giusto? Sì Dunque Boom è un'attività Di impresa sociale Che ha proprio lo scopo Di inserire al lavoro Le persone in difficoltà Le persone con fragilità In particolare persone con disabilità Che è un po' la mission E ovviamente abbiamo due cuochi professionisti Che sono supportati dai ragazzi fragili Ma è anche uno spazio di ristorazione Perché appunto si può fare colazione Si può mangiare anche a mezzogiorno Si possono organizzare dei cocktail Si possono organizzare delle feste E la particolarità è che si trova all'interno Di un quartiere che si chiama Five Square Che fino a due anni fa Era un luogo totalmente desolante C'erano praticamente delle pareti Di cemento armato abbandonate dagli anni Ottanta Che fortunatamente grazie ad un investimento Anche in termini poi di housing sociale Sono state recuperate Adesso sono stati costruiti cinque Diciamo stabili Cinque edifici Che praticamente incorporano ben 400 appartamenti Quindi diventano un quartiere di Milano Che sicuramente aveva bisogno anche di uno spazio Per i cittadini E Boom risponde anche all'esigenza Di essere un luogo di ristorazione Di incontro per il quartiere Quindi anche il panettiere del quartiere Si è diventato a questo punto Che è una cosa che in altri quartieri si va a perdere E voi grazie a queste Quindi fate del bene Allora chi ci lavora dentro Gli educatori che poi collaborano e lavorano Per rendere al meglio all'interno di Boom E al territorio intorno Esatto perché l'idea che Per noi l'idea è questa Che la disabilità, la fragilità Non siano ghettizzate Ma sono delle persone assolutamente Cosiddette Che si devono integrare con gli altri Devono colloquiare Devono essere inserite anche nel mondo del lavoro Per cui c'è questo legame forte Anche con i nuovi cittadini Del quartiere Fai Square E l'impronta non è solo però Boom Diciamo adesso In le ultime settimane E' questa la notizia Perché appunto Avete preparato Vi state preparando anche all'estate So che avete già l'idea Di allargare Di fare più posti per l'estate Giusto? Sì Attualmente Boom ovviamente Ha un 45 posti a sedere Nei nostri tavolini Poi andremo anche fuori Col caldo Tra l'altro il caldo Sapete tutti che arriva presto Sempre prima E quindi raddopperemo sugli 80 posti Cerchiamo il lato positivo Del climate change E il fatto che Boom Potrà mettere più tavolini E noi potremo andare a aiutare Quest'attività Esatto Un'altra cosa interessante Di questo nuovo locale Per noi significa anche Fare cose diverse Perché prima eravamo In uno spazio molto ridotto Adesso produrremo anche La pasta fresca Quindi fatta sempre Appunto artigianalmente Faremo anche degli snack salati Faremo prossimamente Anche panettoni e pandoro Quindi la produzione Si amplifica E la sfida si amplifica 8-17 del mattino Parlarmi così Davvero Faccio fatica adesso Un po' così La salivazione è accelerata Andiamo con la musica Gaia con Tokyo E poi torniamo Sempre qui Con Andrea Per parlare Di Boom Dell'impronta E di come veramente Si può Si può lasciare l'impronta In questa città Andiamo avanti Gaia Tokyo Gaia con Tokyo Non dovete andare fino a Tokyo Per vedere cose Belle e buone Potete farlo tranquillamente Anche a Milano Ad esempio Grazie All'impronta E qui con Andrea Foschi Stiamo raccontando Di Boom Ma anche di tutte le altre Iniziative che avete Fuori onda Vi dicevi che Sono i numeri La cosa che vi fa Impazzire Non nel senso Di like O che adesso Sai che i numeri Sono quelli Like, follower No, sono persone Che avete avviato Il lavoro Sì Abbiamo raggiunto Dei numeri importanti Siamo circa 80 persone Con disabilità Inserite in maniera stabile Nel mondo del lavoro Sono persone Che difficilmente Sarebbero riuscite A entrare Secondo I canoni Tradizionali Dell'accesso Del mondo del lavoro Perché sono persone Che hanno bisogno Anche di tutor Però la nostra esperienza Ci permette Diciamo Di garantire Quell'ambiente Quella tutela Per cui queste persone Riescono a reggere Le fatiche del lavoro Con che tipo Di disabilità Lavorate Disabilità Essenzialmente Cognitiva Di diversi livelli Poi ovviamente Ci sono anche persone Con disabilità fisica Ma appunto Disabilità assolutamente Variegata Quindi dall'autismo Alla sindrome di Down Al ritardo Alla Disagio psichico Sono tante persone diverse Tanti professionisti Che servono però Per poter Ovviamente Abbiamo i nostri professionisti Abbiamo i nostri cuochi Nel nostro campo agricolo Abbiamo anche Il nostro agronomo Abbiamo il nostro Addetto Alla trasformazione Alimentare Che lavorano però Insieme ai ragazzi Cosa interessante L'importa che voi Siete andate a creare Fondamentalmente Una filiera alimentare Da zero Alla tavola Esatto L'obiettivo Era proprio questo Ci siamo un po' inventati In un'attività Nel 2012 Senza averne le competenze Abbiamo aperto Un ristorante Che si chiama Gustop Che è in zona Via De Missaglia Che è un self service Di qualità Che ha 250 pasti Al giorno Che serve soprattutto Diciamo Le aziende del territorio Lì sono inseriti 8 ragazzi Con disabilità Poi ci è venuta l'idea Ma perché non riuscire Anche noi A produrre Gli stessi alimenti Allora abbiamo aperto Panificio Pasticceria Poi abbiamo aperto Un'attività agricola Si chiama Agrivis Abbiamo acquistato Un terreno agricolo Di 4 ettari Dietro lo IEO Quindi in fondo A via Ripamonti Lì facciamo Agricoltura biologica Ma da un anno Trasformiamo i prodotti In un laboratorio Ah Quindi tutta la filiera È coperta È coperta da voi Tra l'altro Sul territorio milanese Avete preso Sì Tutto nel territorio milanese Anche il campo agricolo È dentro i confini Della città di Milano Incredibilmente Che quindi Pensa che invece E non è Incredibile da sentirlo dire Ma ricordiamoci sempre una cosa Magari non la starei andrei a questa Che Milano È il secondo Comune agricolo d'Italia Sì esatto Quindi pensa che Quasi tutto è nella vostra zona Tra parentesi Nel parco agricolo Perché c'è questo parco agricolo Veramente immenso Parco agricolo sud Milano Poi sconfida anche fuori Dai confini Del comune di Milano Ma in comune di Milano Ci sono tantissime Are agricole Che Ed in impronta Ce lo fa capire L'ennesima volta Sono importantissime da mantenere Perché non è Solo Oh che bello Voglio vedere i fiorillini Di campo che crescono Ma è Economia È aziende E in questo caso Anche aziende sociali Aziende sociali Noi abbiamo puntato Non sulla monocultura Ma sull'orticoltura Quindi vuol dire Avere un appezzamento Coltivare le verdure di stagione I piccoli frutti di stagione Anche per dare poi un senso al lavoro C'è anche molto lavoro manuale Perché per questi ragazzi È fondamentale E quindi è anche Una valorizzazione del territorio Oltre che dare un'opportunità di lavoro A chi non lo avrebbe E continuiamo allora con la musica Andiamo avanti Con un po' di musica Adesso Andrea Ci fermiamo un attimino Possiamo sgranchirci anche le gambe Un secondo Ma torniamo poi subito qui Dopo un piccolo spot pubblicitario E continuiamo a parlare Ancora Dell'impronta Di boom Di tutto quello che fate sul territorio milanese E anche del perché lo fate Perché questa è una domanda che ci si fa spesso E quindi preparati una risposta degna Delle grandi lucubrazioni Sul perché qualcuno ha una spinta A fare qualcosa del genere Anche a voi Appuntamento fra poco Continuate ad ascoltarci La musica su Crystal Radio Adesso è il momento Di Max Gazzè Luca Carboni Mare mare Ed è subito vacanza Ed è subito viaggio Con questa canzone A me invece siete a Milano Mi spiace Quest'oggi siete bloccati Su la tangenziale Dove siete? Siete nel traffico Ma prendete un tram Che vi fa passare più velocemente Oppure una bella metropolitana Andate qui in mezzi Che funziona meglio Siamo qui con Andrea Foschi Buongiorno ancora Andrea Stiamo parlando di Dell'impronta Che lascia la vostra impresa sociale Chiamata l'impronta Un po' lungo Un po' uno slogan Firmato lì Inavverto Müller Ma va bene Non solo Boom Appunto Non solo la realtà Di cui stavamo parlando Ma tante altre Abbiamo sentito Una filiera completa Che va dal campo agricolo Fino alla tavola Dei ristoranti Ma anche C'è il posto Il dopo cena Volendo mi dicevi No? Sì C'è anche il dopo cena Abbiamo un locale Più piccolino Però molto carino Si chiama Rab Rab Bar al contrario Lo leggo il contrario Che è in corso San Gotardo 41 Anche lì Ci sono progetti Di inserimento lavorativo Di ragazzi Con disabilità E' un locale Molto accogliente Sembra di essere in famiglia Quando si entra Quindi ve lo consiglio È molto carino San Gotardo E' sempre più importante Appunto anche Riuscire a collocare Proprio sul mercato Questa offerta Che si fa Perché poi Dicevamo Ok È bello Quello che si fa Ma se poi Non ha un risconto Con il pubblico Non deve essere concepito Come vado da boom Per fare della beneficenza Vado da boom Perché la roba Che fa boom È buona Esatto È un approccio Completamente diverso Tra l'altro Non è nel nostro stile Neanche manifestare troppo Che dietro ci sono Delle storie Dei nostri ragazzi Ma uno lo scopre entrando Quindi il cliente Entra Si può bere un bel caffè Mangiare la nostra brioche E poi scopre Che c'è anche Un progetto sociale E quindi Qual è il tema Il tema È essere sul mercato E avere qualità Perché è inammissibile Che uno possa andare avanti Solo col tema Della solidarietà Pure della beneficenza L'idea è che La cooperativa sociale Sia in grado Di entrare nel mercato E fare delle attività Competitive E che però Abbiano anche Un valore sociale Questo anche È il binomio Che può nascere Invece con il mondo Del profit Con il mondo Delle aziende Sì Il mondo delle aziende Sta cambiando Nella relazione Col terzo settore Perché adesso Ci sono tanti obiettivi Anche di sviluppo Sostenibile Quelli dell'agenda 2030 Gli ESG La responsabilità sociale D'impresa Per cui c'è molta più Attenzione Per noi Quindi il rapporto Col mondo profit È fondamentale Quindi abbiamo Tantissimi clienti Oltre ovviamente I consumatori I cittadini Ma anche Le aziende Di medie E grandi dimensioni Che acquiscono I nostri prodotti E con le quali Facciamo anche dei progetti Di inserimento Lavorativo Sempre di ragazzi Con disabilità E per chi magari Si fosse collegato Solo adesso Scusate Ricordiamo Che sono I numeri altissimi Ricordiamo Ancora più di 80 persone Che in questo momento Sono inserite Giusto? Sono inserite Nelle nostre cooperative Del gruppo Siamo cinque cooperative Che fanno attività Diverse Ovviamente Quella principale Legata alla filiera alimentare Poi abbiamo anche Due altre attività Un po' più piccole Una è di delivery Abbiamo organizzato Un progetto di delivery Per un'azienda Del territorio Per cui 18 ragazzi Con disabilità Tutti i giorni Dagli store Dell'azienda Portano dei piccoli prodotti Con uno zaino Usando i mezzi pubblici Verso i clienti Della città Questa è sostenibilità E zero emissioni Davvero Solo la sua Delle scarpe Si consuma In quel caso Esatto E 18 poste di lavoro Che non sono pochi E riuscire a unire Questa cosa qui La cosa interessante È però Capire una cosa Invece qui Entriamo un po' Nel tuo Più che altro Ma chi te lo fa fare? Perché Insomma Una mente come la tua Che mi sembra Una bella sveglia Poteva benissimo Fare altro Nella sua vita Invece Hai voluto fare questo Effettivamente Sì Io ho una storia Ai tempi Probabilmente Ero uno dei primi Perché io mi sono Laurato in economia Negli anni 90 E invece di fare marketing Mi sono occupato Subito di terzo settore Quindi ci ho creduto Dall'inizio Poi questo terzo settore È diventato Un vero e proprio settore Dell'economia italiana Molto importante E per cui Diciamo Le soddisfazioni Poi arrivano Perché la Diciamo La dimensione di queste attività Sono cresciute E in particolare Invece Per quanto riguarda L'impronta Quella dell'impronta È una bellissima storia Perché nasce In un quartiere difficile Che è quello Di Grattosoglio Grazie ad un gruppo Di volontari Che frequentavano Una parrocchia San Barnaba Ovviamente La parrocchia Che esiste ancora Quel gruppo di volontari Incontrò un ragazzo Paraplegico E decisero E decisero di dedicarsi A lui Per fargli fare Delle attività ludiche Per fargli fare Una vita normale Da lì Iniziò La storia Di un gruppo Di volontari Che è diventato Adesso Un'attività Di impresa Un'attività sociale Veramente importante Sul territorio milanese E quindi Si può fare Oggi sono sulla slogan Vado Però è interessante Come da una storia Di una richiesta Singola Appunto Di questo ragazzo Da un incontro Da un voler aiutare Una persona singola Ormai siamo arrivati A dei numeri Davvero importanti Non solo gli 80 Di cui parlavo prima Ma sono davvero tantissimi Si poi c'è tutto Il personale educativo Quindi sono tutti Gli educatori Alla fine Noi siamo Arriviamo quasi A 350 persone Che lavorano nel gruppo E insomma Alto che piccola Media impresa In questo caso Andiamo avanti Con la musica Purple Disco Machine Duke Dumont Nothing About The Teams 8 e 39 minuti Crystal Radio Continuiamo con Good Morning Milano Fino alle 9 Qui in diretta E poi dopo Vedo ricordarvi Un paio di cose Perché Sanremo Si avvicina E ho bisogno Che diate Una bella scossa Al nostro Fanta Sanremo Purple Disco Machine Duke Dumont Nothing About The Teams Sono loro Alle 8 e 42 minuti Ancora qui Con Andrea Foschi Dell'Impronta Allora Stiamo parlando Di quanto Fate Sul territorio milanese E si può anche Dare una mano A quello che fate E subito anche In attività Più A livello sociale Che avete All'interno Della vostra realtà Sì esatto Oltre le attività Di impresa sociale Abbiamo anche Attività Di carattere educativo Sociosanitario Abbiamo appunto Delle comunità Dei centri diurni Degli appartamenti Per famiglie Per famiglie in difficoltà Per cui Chi volesse darci una mano Per queste attività Prettamente sociali Lo può certamente fare Posso dare magari Una mail Allora Info Chiocciola Gruppolimpronta.it Gruppolimpronta.it Ovviamente anche il nostro sito Per cui ci potete contattare lì E lì potete scoprire anche Le nostre attività Chi è che può venire A darvi una mano Chi è che può essere Il volontario tipo Ma per esempio Nella nostra comunità Per minori Che sono appunto Dieci bambini Che devono vivere in comunità Perché hanno Delle famiglie Molto in difficoltà Alle spalle Con delle storie Purtroppo molto difficili Si può dare una mano Per preparare la cena Dare un supporto Per il dopo scuola Insomma Ci sono tante cose Che poi si possono Quindi anche Giovani ragazzi universitari Ragazzi universitari Magari il dopo scuola Può essere una cosa Che possono dare una mano Esatto Possono aiutare I ragazzi a fare i compiti Anche un metodo di studio Dagli un metodo di studio Ah ok Io sono escluso Da quello Sono escluso Però ho delle bravissime Producer Che potrebbero Tranquillamente aiutare Perché sono davvero Dei fenomeni Le ragazze Che passano qua Da Good Morning Milano Le coordinate invece Per poter capire di più Ci sono anche sui social Giusto siete? Sì abbiamo anche Un'attività social Quindi sempre Il nome della nostra pagina È Gruppo L'Impronta Gruppo L'Impronta Tutto scritto da capo Esatto Sia Facebook Che Instagram Quindi lì Potete aggiornarvi E insomma Tante le attività Che fate Soprattutto Nella zona Diciamo Del sud Milano Nella zona lì Ma in realtà Siete praticamente Su tutta la città Comunque vi espandete Piano piano Stiamo crescendo Le impronte Sono sempre di più Le impronte Sono sempre di più Poi vi entreranno Le impronte Dovete andare al plurale Ormai siamo già al plurale Deve andare al plurale Fa un po' Vabbè Comunque Andrea Io ti ringrazio davvero tantissimo Per essere qui con noi Questa mattina Per averci raccontato Una realtà interessante Che fa tanto Sul territorio milanese Che dà anche Una speranza Che questa città Sia un po' Più per tutti Sì Una città più Inclusiva Adesso si parla Di Milano Un po' più aristocratica E difficile Invece questa è una città Inclusiva Che noi vogliamo sostenere Quindi grazie a voi Per l'invito Ma grazie a te Andrea Andiamo avanti con la musica Allora adesso Perché è il momento Di Sfera e Basta Con Marrakesh Insieme Per questa 15 piani 331 7853555 Numero di Whatsapp Noi siamo sempre qua Fino ancora 10 minuti E poi Dopo vabbè C'è Brogio SentiQuesta Il giornale radio Insomma c'è tanta Tanta roba Qui su Crystal Radio Sfera e Basta Marrakesh 15 piani Posso dire pubblicamente Che questo pezzo Mi piace Proprio mi piace Questo pezzo Sì Proprio tanto Non so Molto Molto milanese Sento molto I 15 piani Dei palazzi Qui intorno Non so Così Mi sembra Non so Comunque Allora 8.49 Siamo quasi arrivati Alla fine Ma prima di chiudere Devo ricordarvi Che cosa Devo ricordarvi Che c'è il Fanta Sanremo Ancora più importante Dopo Ormai lo sapete Tutta mattina Che ve lo ripetiamo Lo rideremo anche domani Del fatto che Settimana prossima Trasmettiamo Da Sanremo Questa è la notizia Di giornata Quindi Saremo lì Non abbandoniamo Milano Pensate Io sarò a Sanremo Che leggo i giornali di Milano Vabbè Però Ovviamente Vi daremo anche Il sentiment Il mood Vi racconteremo Direttamente Dalla sala stampa Del Palafiori La sala stampa Da Lucio Dalla Che cosa Succederà All'interno Di Sanremo Cercheremo Di portarvi Le voci Dei cantanti In gara E magari Anche di tanto altro Che ruota Intorno Alla Kermess musicale Più importante D'Italia Tra cui Il Fanta Sanremo Quindi andate Sulla app E sul sito Scaricate L'applicazione Cercate La lega Che si chiama Crystal Radio E fate La vostra squadra Iscrivetevi Sono già tante Le squadre Iscritte In questo momento E aggiungete Una squadra Se ce l'avete già Potete iscrivervi Comunque alla lega Quindi se siete iscritti Ad altre leghe Andate anche sulla lega Del Fanta Sanremo Di Crystal Radio Pensate Notizie di questa mattina Due milioni Di squadre Iscritte Al Fanta Sanremo E manca una settimana E Gli organizzatori Del Fanta Sanremo Dicono I numeri Sono quasi sempre questi Ma attenzione Che L'ultima settimana C'è il picco Quindi Molto probabilmente 3 milioni di squadre Forse Più o meno Beh pensate Voi potreste essere Quella che vince La lega di Crystal Radio Ma soprattutto La cosa importante È cosa vincerete Assolutamente Niente Perché questo è il bello Che voi fate Ma non vincete niente Ma volete mettere Potete rifreggiare Del fatto di essere I vincitori Della lega Di Crystal Radio Con tutti i vostri amici Eate al bar Vi vantate Di aver vinto La lega Del Fanta Sanremo Di Crystal Radio Questo abbiamo Di più Non mi spiace Non possiamo Fuirvi più Però insomma Vi offriamo tanta compagnia E tanta bella musica La mattina Mattina che tornerà Anche domani Lo sapete Perché domani È venerdì Chiudiamo La settimana Con Una Importante Mattinata Dove avremo anche Gli eventi La settimana a cui Eribi non va E poi Lunedì ancora qui E da martedì invece In diretta Da quella di Sanremo Andiamo avanti Con la musica Ma no dai Anzi Facciamo una bella cosa Sigla Facciamola partire Dai Come si diceva in questi casi Attenzione Moseca Sigla 8 e 52 minuti Leggermente in anticipo Rispetto al solito Andiamo a chiudere Questa puntata Di oggi Giovedì Primo febbraio Con augurandovi Comunque Una bellissima giornata Dopo di noi Ve l'ho detto Poco fa Ambrogio Curti Con Senti questa Abbiamo Il puntato del giovedì Puntata importante Musica internazionale Storia di musica Raccontate la bravissima E bellissima voce Di Ambrogio Curti E raccontate con tutte le storie Che lui sa Ah se ne sa Allora ricordatevi Di andare a prendere Il Fantasarim E fare la vostra squadra Ma soprattutto Ricordatevi Di sintonizzare la vostra radio Anche domani mattina Qui su Crystal Radio Per ascoltare un'altra puntata Di Good Morning Milano Che poi dove andremo Tutte le mattine Così sempre nel traffico Luce Verbe Che ci dice sempre Che c'è traffico Dove cavolo Andremo tutte le mattine insieme Ma chi lo sa E' carino saperlo 3317853555 Dove andiamo Tutte le mattine insieme Lavoro Università Studio A fare un giro A fare la corsa La mattina A portare il cane Appuntamento loro domani mattina Dalle 7 alle 9 Qui su Crystal Radio Good Morning Milano Il morning show Che sveglia i milanesi Come sempre giù dal letto Come sempre in mezzo alla città Come sempre sui tram Sui mezzi pubblici Insieme a voi Nelle vostre cuffie Ciao Ciao